Grazie a lei. Quando dico, per esempio, sono americana perché ho un passaporto americano, c'è sempre qualcuno che dice giustamente ma tu non sei veramente americana perché sei nata a Londra è vero, ma se dico invece io sono inglese perché ho un passaporto inglese e sono nata a Londra c'è sempre qualcuno che mi dice ma non parli davvero con un accento inglese o qualcosa del genere è vero, quando dico invece sono ganese perché mio padre è del Ghana, lui è Eve oppure sono nigeriana perché mia mamma è Yoruba, nigeriana c'è sempre qualcuno che mi dice no, non è vero, tu non sei davvero ganese, davvero nigeriana, davvero africana perché non vivi lì e questo è vero, è giusto ho pensato a un certo punto vabbè ma deve essere una parola che posso utilizzare per me stessa e essendo una scrittice ho inventato la parola e afropolitan per me semplicemente è nato da questo senso di non avere un'identità che fosse facile da accettare per gli altri, non per me ammetto che io non sono tanto interessata di tutte queste etichette ma so che esistono e sapevo in quel momento che io non avevo una che funzionava e afropolitan, questa idea di essere un africano del mondo un'africana con una sensibilità mondiale, globale questo per me funzionava, funziona ancora sì mia mamma vive nel Ghana ormai da 15 anni e mio padre che è ganese, lui vive nell'arbiossadita non mi chiedo lasciate perdere da 30 anni quindi la mia famiglia è davvero dispersa non ho idea non ho idea di dove è arrivata questa trama quando avevo 4 anni ho detto a mia mamma voglio essere una scrittice lei ha detto sei sicura? io ho detto sono sicura e non ho mai cambiato idea ho lasciato il mio lavoro con l'idea di scrivere un romanzo prima del mio compleanno di 30 anni che in quel momento sembrava importante adesso no ma ho pensato senti dai tu sei vecchia tu sei anziana adesso è ora e quindi ho lasciato il mio lavoro completamente avevo una cifra e ho deciso ok vivo con questi soldi niente di più e scrivo pieno tempo però dopo 5 mesi non ho scritto niente perché? perché avevo paura perché non avevo una storia che secondo me meritava un romanzo finalmente sono andata in Svezia come si fa per fare un ritiro di yoga e mentre lì sotto la doccia ho ricevuto questa idea questa ispirazione questo momento di non so ero come da nulla tutta la famiglia tutta la trama passato presente futuro tutto chiaro in un momento e dovevo dovevo lasciare il ritiro perché loro mi hanno detto che scusa non potevo utilizzare un laptop ho detto questo è un po' difficile perché sono un iscrittice aspettavo 25 anni per questo romanzo posso avere il mio laptop ma loro erano tedeschi quindi hanno detto nein dovevo scappare e sono andata invece a Copenaghen quando ho ricevuto l'idea e quando ho conosciuto questa famiglia in quel momento ero sicura questo è il mio primo romanzo sono andata a Copenaghen per cinque giorni e ho scritto venti pagine e queste pagine non sono per niente diverse nel romanzo pubblicato sono esattamente infatti tutto è esattamente lo stesso vi spiego un po' della famiglia Sai ci sono quattro figli Olu è il più grande lui è un chirurgo come il padre Taiwo e Kainde sono i gemelli artisti un po' persi possiamo dire e Sadie è la più giovane lei è una studentessa a Yale University dove ho frequentato anch'io i genitori sono Kweku un chirurgo dalgana e Fola una donna nigeriana molto forte che aveva il sogno di diventare un avvocato però non ha funzionato alla fine quindi abbiamo Kweku dalgana Fola di Nigeria e questi quattro figli adulti quando più o meno adulti quando comincia il romanzo che tutti tutti i figli sono nati negli Stati Uniti questo è questa è la famiglia Sai ma in quest'anno viaggiando parlando di questo romanzo sento sempre che questa è una famiglia di immigranti oppure peggio che questo è un romanzo di immigrazione io non sono d'accordo non ammetto che non posso capire in quale modo un immigrante sia un diverso tipo di umano oppure una famiglia di immigranti è un diverso tipo di famiglia io dico questo sinceramente perché alla fine quando pensiamo un po' sono sicura che diventa ovvio che una famiglia è un'idea stiamo creando tutto il tempo l'idea della nostra famiglia non perché mia mamma vive nel Ghana mia sorella a New York e io a Trastevere ma perché siamo diverse persone nel nostro caso siamo diverse donne e penso che questa è la verità questo è vero per tutte le famiglie immigranti non immigranti queste cose sono molto più concettuali molto più flessibili direi la stessa cosa rispetto il rapporto tra una persona e un paese questo per me quando sono arrivata in Italia era molto interessante perché fuori Italia parliamo di Italia come fosse un'entità chiarissima ma Italia c'è cibo italiano ci sono scarpe italiane c'è la gente italiana ma non è vero non è vero mi ricordo bene la prima volta in cui sono andata in Sicilia mi ricordo bene anche la prima volta in cui sono andata a Torino per fare Masterpiece in tutti i due posti ho trovato italiani che si sentono più torinese oppure più siciliano che italiano quindi anche qui in questo paese l'idea d'Italia e quindi l'idea di essere italiano è esattamente questa un'idea non è diverso Ghana per esempio oggi è il nostro compleanno 57 anni fa Ghana è nata è nato come come un paese come uno stato indipendente ma che cosa vuol dire essere ghanese davvero che cosa vuol dire mio padre è ghanese ma lui è nato in Gold Coast la colonia che non esiste più meno male lui è Eve lui parla ogni lingua ghanese che esiste ma vive da 30 anni nell'Arabia Saudita parlando arabo sono sempre curiosa di capire che cosa vuol dire essere una cittadina alla fine un cittadino Fola è nata in Nigeria a Lagos la città più grande nel paese ma in realtà lei quando quando la troviamo lei all'inizio del secondo parte del romanzo e lei sta ricordando il suo passato lei non dice che lei è nigeriana lei dice invece che il suo padre è Yoruba perché questa è l'identità importante per lei per loro per la vita per la cultura per la tradizione per il cibo per la lingua e la mamma che è morta era Ibo e scozzese quindi Fola per se stessa è Yoruba Ibo e scozzese perché questi sono questi sono i suoi genitori e in più queste sono le identità che che contano in un senso questa ripeto questa è la lingua questa è la lingua che parla questo è il cibo che mangia questo è la musica che che ascolta è Yoruba non è non è nigeriana lei non è nigeriana per se stessa ma quando arriva negli Stati Uniti lei diventa nigeriana peggio diventa africana perché c'era una guerra e il padre è morto e queste cose come sappiamo sono africane e lei infatti secondo me anche se ho scritto questo lei pensa chiaramente della differenza tra la sua vita in Nigeria non essendo nigeriana e la vita negli Stati Uniti dove lei diventa nigeriana diventa africana ha senso? e in più Stati chiede perché noi figli perché noi non non siamo mai tornati con ovviamente con con i nostri genitori e Kinde il fratello dice in quel momento una cosa molto importante per me rispetto a questo romanzo e soprattutto rispetto a questo tema di immigrazione lui dice i loro paesi li li fanno male il mio punto è semplicemente che quando tu vieni di un paese dove come i miei genitori come Kwekwe Fola quando tu vieni di un paese dove non puoi trovare le cose che ti servono per realizzare te stesso quando tu sei semplicemente ferito dal tuo paese diventa difficile dire sono ghanese sono nigeriana punto perché mia mamma per esempio lei è nata a Londra ma cresciuta in Nigeria lei è Yohuba più importante è la cultura la tradizione tutto è molto importante per lei sto parlando della cultura Yoruba ma Nigeria lo Stato lei non ha un buon rapporto con Nigeria per questo lei vive in Algana perché Nigeria come uno Stato come un governo non è una per lei non è una presenza gentile non è un'idea piacevole per Queco la mamma vede la mamma sa che questo uomo questo ragazzo questo ragazzino è diverso lui è più curioso è più intelligente lui è più in un senso è più lui non è soddisfatto con questa esistenza lui vuole di più semplicemente e lei perché anche lei vuole di più ma essendo una donna in un paese in quel momento lei in un senso accetta il fatto che questa è la sua vita ma per Queco il suo figlio lei può vedere che lui sta cercando qualcosa semplicemente che lui sta cercando qualcosa che non può trovare non nel Ghana ma nel loro paesino nel Ghana hai capito e la cosa più importante in questo è la povertà non il fatto che il Ghana potrebbe essere India potrebbe essere Siria potrebbe essere Ukraine potrebbe essere Venezuela potrebbe essere ogni paese dove ci sono giovani che non possono realizzare i loro sogni stavo tornando a Roma e una mi ha detto come un complimento devo dire ma infatti è ovvio a me che la tua mamma deve essere una parte scozzese perché la tua bellezza è così raffinata quindi ovviamente tu non puoi essere 100% africana che bella che sei scusami no davvero davvero lei ha detto guarda il tuo naso la faccia è una bellezza che non si trova eccetera 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 io ho detto signora lei pensa che c'è una bellezza particolare al continente dell'Africa il continente dell'Africa con 55 diversi paesi con quanto 4.000 diverse lingue secondo lei c'è solo uno tipo di bellezza che troviamo in quella parte del mondo lei ha detto ah no ma non non voglio essere racista è solo che no sto dicendo solo che tu sei molto bella ma quando quando abbiamo parlato ancora di più è venuto fuori che lei pensava come molti che esiste una razza di umani neri che ha per cui c'è un massimo livello di bellezza dopo di cui una deve essere un'altra razza per essere così bella hai capito? per lei era un ho visto ho visto e mi sentivo un senso di empatia per lei per lei era molto difficile accettare che il suo concetto è racista per definizione perché è basato è fondato è based on the idea è fondato è fondato esatto sull'idea che esiste una razza nera e non esiste una donna di Kenya una donna del Ghana una donna di Jamaica una donna africana americana come Michelle Obama non sono la stessa cosa purtroppo non sono la stessa cosa una donna brasiliana non ha senso per dire niente della razza bianca quindi io dico per esempio come ho detto nell'intervista che forse hai visto sul paese quando parlo della gente del sud del sud globale io parlo della gente marrone perché almeno è preciso almeno è una osservazione una descrizione che almeno è giusto quando mi vedo vedo pelle marrone infatti non sono nera i miei pantaloni sono neri io non sono nera ma la cosa interessante Elisa di come funziona il rassismo c'è sempre una dimensione economica quindi quando loro mi chiedono ma come ti trovi in Italia sono sempre un po' esitante di di rispondere perché se possiamo capire com'è un paese si comporta con la popolazione straniera dobbiamo vedere soprattutto prima e soprattutto a livello economico più basso perché è lì dove si trova dove vediamo davvero il cuore del della risposta di un paese quindi non mi vedi no non vedermi come un esempio io non sono un esempio di niente invece dobbiamo vedere come vivono i giovani che vendono le borse sulla strada a Trasevere nel centro a piazza di Spagna dobbiamo chiedere a loro come loro trovano Italia perché loro hanno loro vivono la verità di essere un immigrante in questo paese io no un'altra cosa e questo trovo sempre interessante queste sono cose che trovo interessante niente di più ma ho notato in Italia ma non solo che una donna che è considerata bella una donna marrone che è considerata marrone per qualche ragione occupa un altro posto occupa un altro spazio nella fantasia collettiva del paese rispetto un uomo dello stesso colore una bella giovane donna senegalese secondo me ha un altro ruolo oppure può avere un altro ruolo può occupare un altro spazio nella fantasia collettiva rispetto un giovane uomo senegalese e non sono sicura che la mia recezione come una bella donna africana no sono una donna questo è sicuro una bella africana non sono sicura che questa è una cosa innocua quando sono arrivata in Spagna ho visto il mio romanzo con una sticker che ha detto la nuova voce d'Africa la nuova voce d'Africa e ho detto c'è anche una nuova voce di Europa ma tutto il continente e chi sarebbe un francese una tedesca e loro hanno riso e hanno detto no spiegami come come possiamo scegliere la voce singolare di un continente e loro hanno detto come sempre no no è un complimento accetto questo accetto questo so bene che l'intenzione è pura ma per parlare parlare dell'Africa come fosse un monolittico posto che posso dire tesoro che posso dire io dico semplicemente che è pigro è pigro perché se possiamo un po' più attenti notiamo che è un continente incredibilmente incredibilmente diverso ci sono molte lingue molte culture molti diversi stili di governo eccetera 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 e per rifiutare di vedere queste differenze questo è dico pigro ok la stessa cosa è successo in ogni paese qui in Europa in Germania apprezzo il fatto che almeno le case erano molto oneste con me dicendo senti Tai se il titolo è incredibile che questo succede ancora ma se utilizziamo Ghana must go in Italia ha detto Einaudi i lettori italiani penserebbe che il libro parla della povertà di guerra di ogni roba brutta che si trova nell'Africa e questo non è vero in realtà il tuo romanzo parla di una famiglia d'amore eccetera eccetera quindi non possiamo utilizzare il nome di un paese africano per questo romanzo perché i lettori saranno confussi indifferenti indifferenti e pensavo all'inizio che no questo non è vero no non oggi ma quando ho cominciato la mia torne ho trovato che in realtà è così accetto questo logico ho capito che questo è dobbiamo vendere libri eccetera eccetera ma mi sento un po' un po' per questo grazie 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 grazie